comincia a registrare, questo lo metto da parte, non mi serve, da questo momento tutto quello che viene sul computer lo registra, sia quello che proietto, sia quello che dico. E questa è la prima cosa. Un'altra importante innovazione è questo, che diventerà il vostro fedele compagno di studi. È un simulatore di circuiti elettrici. Quindi tutto quello che noi facciamo, a parte la... Non mi ricordo se... Perché non ogni tanto mi perdere. A parte, diciamo, un po' di teoria introduttiva, Tutto quello che facciamo lo andiamo a tradurre in... Non è il mio account questo, Comunque, lo andiamo a tradurre in questo sistema. Che voi, tutti quanti voi, vi dovrete... Vi fate... Vi trovate il link, quindi vi fate il vostro account bellini e bellini. E questa cosa vi permette di creare un qualunque circuito, di disegnarlo. Bene, quindi adesso noi lo... Appena ci sarà il caso, già c'è un tutorial, però poi lo faremo insieme. La cosa divertente è che questo... Questa cosa vi fa e fare il circuito, però lo fa anche funzionare. Quindi voi vedrete in termini di... Potrete poi fare delle misure su questo circuito, così come se voi aveste proprio la possibilità di sperarci materialmente. Quindi potrete fare le misure di tensione, corrente, frequenza, quindi fate una cosa dal vivo, come se foste in laboratorio. Questo diventerà, diciamo, strumento quotidiano che voi dovete affiancare allo studio. Cioè voi studiate, provate, studiate, provate. Ok? Ma è inutile che lo vediamo perché adesso facciamo solo un po' di teoria. Però la cosa che io ci tengo molto a precisare, e per questo... Questo è un tutorial, credo che ci sia. Vabbè, c'è un video che fa vedere un po' tutta... Questo penso che l'ho fatto pure io, questo qua. Vabbè, quindi già l'ho trovato. Quello che ci tengo molto a precisare, però, è che, anche se spesso queste cose, queste parole cadono nel vuoto, voi da studiare. Non è che voi mettete a pazzia pensando a diceverte, perché poi l'esame ovviamente è pratico. Però io quando faccio l'esame pratico, io verifico la vostra consapevolezza sull'uso dello strumento. Se vedo che questa consapevolezza non c'è, pure se mi porti l'esercizio fatto, perché voi porterete un esercizio che fate a casa, non fate l'esercizio qua. Perché lo ritengo io, lo faccio anche in altri esami. Perché uno, quando sta qui in sede di esami, che non l'ansia, la pressione, che la tomba sta in cuore, le emozioni, un sacco di scuse, magari non ha storiato, non lo sa, non sa niente. Però il fatto che sta in un contesto, anzi oggi, non gli dà miglia di protesti per dire che è il contesto, non è il fatto che lui è ciò. per evitare qualunque, diciamo, voi l'esercizio lo fate a casa. Poi vedremo qual è la procedura dell'esame. Però io qua vedo se l'esercizio è roba vostra o no, se siete consapevoli o no. a me tutto sommato è una cosa abbastanza semplice. Quindi, se voi non studiate rima, che non è poi tantissimo, ma se non avete consapevolezza nelle cose che fate, ma lo fate meccanicamente, perché l'ha fatta l'amica, o perché qualcuno va avassato più o meno, un esercizio già fatto, dice che chi la fa lo so se ne accorge, non ti preoccupare, cosa di questo tipo non va. Considerato poi tutto sommato, perdete più tempo a fare tutti i sincianni, piuttosto che farlo da voi e studiare un po' da voi. E quindi, quando poi arriverà il giorno fatidico, voi troverete qua questi corsi rossi che si chiamano compito o un riferimento all'esame. Quando voi cliccate qua e vi chiederà di fare una consegna, io qui visualizzo le consegne perché sono docenti, a voi vi uscirà questa cosa e ci inserisce una consegna. Inserire una consegna, che cosa significa? Che tu inserisci un file che sarà un doc nel quale tu metti la traccia che ti proponi di fare sui temi che sono stati oggi, sui tre temi. Tu dovrei proporre tre tracce. Una sulla parte di elettorologia generale, una sulla parte di misure, una sulla parte di sicurezza elettrica. chiaro che le tracce un po' si domine, però io già dalla traccia vedo se sai che si parla o no. Però sulla traccia non posso assicurarmi che la traccia non ti sia stata dettata dalla mamma mia. Perciò io la prendo per buona e l'accetto, però poi quando vieni qua mi fai vedere che la traccia l'hai fatta tu e che la maneggi tu la questione. Perché io voglio così raccomandare? Perché io, anche per non stravolgere il senso dell'esame, non è che mi metta a fare pure l'esame, diciamo, l'interrogazione di teoria. Ha poco senso. Se tu mi fai vedere che sai usare, sai fare circuiti, che ti chiedi a fare teoria. Però vi dico, attenzione, se voi non la studiate la teoria, vi trovate a costruire un castello con i piedi di argilla. chiaro. Quando poi, per riparare, è troppo tardi. Allora, in un momento queste prime lezioni può piacere, scaldere, studiare, cercate i capi, fate le domande, ponetevi questioni, in maniera che poi quando andiamo a fare la pratica siete belli robusti. Ok? Va bene. Domande? Tutto chiaro? Perfetto. Non vi scordate o foglie Excel, perché se non non ho il foglie Excel non vi posso far accedere qua dentro. Fondamenti di elettrologia. allora questo non lo scordiamo. Ok. Ok. Per capire come nasce la corrente elettrica, come è fatta la corrente elettrica, noi sappiamo solo che la corrente elettrica è quella che ci fa caricare un telefonino e sta nella spina e se ci metto le mani, i ghiascos, più o meno questo è quello che ho la percezione della corrente elettrica. Naturalmente quello che in questi primi passaggi vorrei farvi capire è da cosa nasce, come è strutturata, come è costituita la corrente elettrica, da dove nasce, perché una corrente nasce da qualcosa che si sviluppa nel tempo, quindi qualcosa deve provocarla la corrente, da sola la corrente non nasce, ci deve essere qualcosa che la fa nasce. e allora dobbiamo un po' ricordarci qualcosa di struttura della materia, questo qualcosa del genere dovete averla fatta, no? Allora vi ricordate che certamente c'è una molecola, è composta di atomi, un atomi ha un nucleo e poi degli elettroni che girano tutti attorno. Allora convenzionalmente abbiamo più o meno una situazione di equilibrio fra gli atomi, cioè i protoni che sono nel nucleo e gli elettroni che stanno girando tutto attorno. Per quanto riguarda la corrente elettrica, l'elemento che ci fa, diciamo, l'elemento di base dal quale partiamo è proprio l'elettrone, che l'elettrone, noi adesso stabiliamo questa convenzione della carica elettrica perché è una cosa che ci è comoda per capire come, diciamo, come nasce la corrente elettrica, quindi diciamo che il protone, che l'elettrone ha una carica elettrica negativa, ha una carica elettrica. Ora, da un punto di vista elettrico, i protoni hanno una carica elettrica positiva, gli elettroni hanno una carica elettrica negativa. Siccome ci stanno tanti protoni quanti elettroni, nell'insieme stanno pari e pari. Quindi l'atomo di base è una struttura che elettricamente non ha nessun tipo di equilibrio. Quando dovessero cambiare l'equilibrio fra protoni e elettroni, diciamo che l'atomo o qualunque oggetto che si dovesse trovare ad avere per qualche motivo un protone più o un elettrone in più, si ritrova ad avere una sorta di carica. D'accordo? Diciamo che ha una carica elettrica. Poi come si manifesta questa carica? Vediamo. Per il momento stiamo analizzando la cosa solo come struttura, quindi non stiamo ancora parlando di correnti. ci niente. Ora guardate un attimo questo video per farvi capire che cosa succede quando cambia l'equilibrio fra protoni e elettroni. Questo doveva avere dell'audio. che però pare non ci sia. Se avviciniamo una bacchetta elettrizzata a una sfera di metallo scarica. Allora, prendiamo questa bacchetta di plastica e la sfreghiamo con un panno acento. Quello che succede è che la avviciniamo vicino alla sfera. Se avviciniamo una bacchetta elettrizzata a una sfera di metallo scarica appesa a un filo isolante, la bacchetta attrae la sfera. Com'è possibile che un corpo carico ne attragga uno scarico? La risposta è nella legge di Coulomb. La bacchetta di plastica ha carica negativa. Quando si avvicina alla sfera, perciò ne respinge gli elettroni, che sono liberi di muoversi dentro il metallo e si spostano verso il lato opposto della sfera. Così, la parte della sfera più vicina alla bacchetta rimane carica positivamente, mentre la superficie più lontana diventa negativa. Per la legge di Coulomb, però, la trazione tra cariche vicine è maggiore della repulsione tra cariche lontane. Ecco perché la sfera è attratta dalla bacchetta. Questo, in realtà, non è un fenomeno di elettrizzazione vero e proprio, perché nel complesso la sfera di metallo rimane elettricamente neutra, come era all'inizio. La bacchetta, infatti, non trasferisce una carica sulla sfera, ma spinge, cioè induce, le sue cariche interne a ridistribuirsi, in maniera tale che alcune parti della sfera risultino localmente elettrizzate. Allora, questo fenomeno, chiamato induzione elettrostatica, non è tuttavia irreversibile. Per tornare nelle condizioni iniziali, infatti, basta allontanare la bacchetta. Subito, allora, le cariche positive e negative presenti sulla sfera tornano a mescolarsi. L'induzione elettrostatica si verifica grazie alla libertà di movimento degli elettroni all'interno di un materiale conduttore. Però, anche un materiale isolante, come la carica... Allora, quello che vi ha fatto vedere questo video, fino adesso, è che c'è una caratteristica che è già intrinseca nella struttura, che le cariche positive e le cariche negative si attraggono. Le cariche di segno uguale si respingono. Prova ne è che l'elettrone gira attorno al protone perché ha la carica positiva. L'elettrone non collassa sul protone perché ha una sua energia intrinseca che lo fa girare attorno al protone. Non sono un esperto di natura, quindi non facciamo le cose troppo complicate. A noi ci interessa capire qual è il comportamento tra protone, cariche positive e cariche negative. Ora, l'atomo sta bello e caro perché appunto è un equilibrio tra gli elettroni e i protoni che sono contenuti. Nel momento in cui, però, io attraverso, diciamo, diverse modalità, questa ve ne è stata mostrata una, io posso cambiare lo stato di questo equilibrio. Un'altra cosa, vi anticipo subito che serve a comprendere il video, noi distinguiamo i materiali di due tipi, materiali isolanti e materiali conduttori. I materiali isolanti sono materiali dove le eventuali cariche che sono presenti non si ridistribuiscono, ma rimangono lì dove sono accumulati. Nei materiali conduttori viceversa tendono ad avere un loro, diciamo, equilibrio, si spostano facilmente sul materiale. Nel materiale isolante le cariche non si spostano, nel materiale conduttore sì. Allora che succede? Che nel momento in cui, come avete visto, la bacchetta si avvicina a una sfera di metallo, lì che normalmente era neutro, però che succede? Che tutto quello, siccome le cariche si possono spostare, diciamo che tutto quello che è carico negativamente tende ad allontanarsi, quello che è carico positivamente tende ad avvicinarsi. Che significa questo? Cioè, ma quello l'atomo quello è. E ho capito, ma l'atomo nella sua struttura non è che è una palla, cioè alcune, nel caso degli atomi, delle materie, dei materiali di tipo metallico, la struttura del metallo è molto fluida, ok? Mentre la struttura della materia, nel caso isolante, è molto rigida. Quindi che significa? Che nel metallo, se c'è una causa come la bacchetta di cariche negative, fermo restando la struttura dell'atomo, però le cariche negative tendono, quindi gli elettroni, tendono ad andarsene di là. Che significa? Che non è che se ne vanno dall'atomo, no, rimangono attaccati all'atomo. Nella loro orbita tendono a stare più all'atomo. automaticamente quello che rimane da questa parte è, diciamo nella maggioranza, più carico positivamente, ok? E quindi, poiché le cariche positive si attraggono, sta pallina a quel punto prende e viene attratta. chiaro. Mentre la superficie più lontana diventa negativa. Questo anche perché naturalmente il fatto che si attraggono, si respingono, e questa è la legge che ci dice la legge di Coulomb che adesso studiamo, significa che per attrarsi e respingere si significa che nasce una forza, no? Che questa forza deve vincere poi la resistenza della massa, della pallina. Quindi la forza naturalmente nel caso della legge di Coulomb dipende dalla distanza, cioè più sono vicini e più la forza è grande. Più sono lontana e più la forza è piccola. Allora, se le cariche negative sono quelle che stanno più lontano, la forza di repulsione delle cariche negative sarà minore della forza di attrazione legata alle cariche positive sulla sfera di metà. E quindi la pallina si avvicina, ok? Tutto questo, quello che vi deve essere, diciamo, che dovete tirare fuori da queste quattro cose che vi ho detto, è proprio la percezione, consapevolezza del fatto che le cariche elettriche si attraggono e si respingono, ok? Perché questo è il punto più importante. L'azione elettrostatica si verifica grazie alla libertà di movimento degli elettroni all'interno di un materiale conduttore. Però anche un materiale isolante, come la carta, può essere attirato da un corpo carico. Una penna di plastica elettrizzata per strofinio, per esempio, riesce ad attrarre piccoli pezzetti di carta. In questo caso avviene il fenomeno chiamato polarizzazione. Gli elettroni della carta più vicini alla penna sentono una forza che li respinge. E anche se sono poco liberi di muoversi nelle molecole, una piccola ridistribuzione di carica si crea ugualmente. Il risultato è che nel complesso le cariche di segno opposto sono più vicine tra loro, mentre quelle dello stesso segno sono più distanti. Ecco perché i pezzettini di carta sono attratti dalla penna. Ok. Allora, in questo... Il fenomeno della polarizzazione spiega come mai l'intensità della forza di Coulomb si... Vabbè, questo poi lo vediamo un attimo. Adesso... Ehm... Quindi vediamo adesso un po' di formula che sono semplici, relative alla forza di Coulomb, che è quella che è stata dimostrata in questo video, che dipende quindi dalle cariche che possono essere se attrattive sono cariche negative, se repulsive sono cariche dello stesso segno, una costante che dipende dal mezzo dove ci si trova. Questa k è uno su quattro pi greco e y, e y è la costante dielettrica del materiale dove ci si trova. Ok. Anche qui la formula è una formula banale, non vi viene chiesta all'esame, perché non mi interessa che voi mi diciate una formula dopo esattamente dieci minuti avrete dimenticato, ma mi interessa che però vi sia chiaro che c'è una... che due cariche hanno una forza che dipende dal valore delle cariche e soprattutto dipende dal quadrato della distanza. quello che significa che mano a mano che questa distanza si, diciamo, diminuisce, questa forza cresce moltissimo. chiaro? Quando basta poco che si allontanano invece questa forza poi trolla. ora, un'altra grandezza che è così, che è importante, è questo, il concetto di campo elettrico. Perché? se io, tornando alla bacchetta, la bacchetta esercita una forza sulla palla, ma ci vuole la palla. Quindi la forza che esercita la bacchetta dipende dalla bacchetta, ma dipende anche poi dalla carica che si nasce sulla palla. Quindi, inevitabilmente, se io parlo di forza, la forza è tra due che dipendono dalla carica dell'uno e la carica dell'altro. Sempre diciamo che è interessante sapere che io, se ho un elemento che è carico, sapere, diciamo, quant'è la forza e quant'è la intensità di questa forza che questa cosa oggetta, che questa cosa carica può esercitare, indipendentemente dalla carica. c'è il senso che se si interagisce con una carica alta, c'è una forza alta, una carica piccola, una forza piccola, ma tutto dipende dalla quantità di cariche che stanno qua sotto. Quindi è utile avere questo concetto che si chiama concetto di campo elettrico. In questa forma, nota la forza, il campo elettrico è data dalla forza espressa diviso la carica sulla quale sta agendo. Quindi, se io prendo un oggetto, lo carico, ci metto una carica che per me è la carica campione, vedo la forza, divido la forza per questa carica, diciamo, che io uso per misurare la forza di culo e quello che ottengo è il campo, che è quello che può esercitare questa cosa che io ho caricato, chiamiamolo questa cosa di pila elettrostatica, va bene, una sorta, la pila è qualcosa che può generare energia. Supponiamo di fare, noi conosciamo la pila che fa la KMT in mindè degli apparati, no? Immaginiamo di avere una pila che però è su, che genera solo una forza, non genera una corretta. Ecco, il concetto è lo stesso. Quando due oggetti carichi si affacciano uno con l'altro, abbiamo detto che nasce la forza di Coulomb, la forza di Coulomb agisce attraverso delle linee di forza, quindi se io metto una carica in questa, ad esempio io genero il, se io metto in questo momento due cariche, no? Qualunque carica vado a mettere in mezzo a queste due, questa viene soggetta a una forza. Ora, la forza a cui è soggetta questa carica, immaginiamo che sono cariche che io, ripeto, il concetto di carica, diciamo, di sonda, di una carica elementare, di una carica piccola che io uso per misurare quello che succede, quando metto due cariche che saranno belle grosse qui e qui e vado a mettere una carica piccola in questo punto, ecco, vedete, in questo punto quella carica è soggetta a una forza che è diretta secondo una direzione tangente a questa linea e avrà poi un'intensità che da un punto di vista grafico sarà tanto più grande quanto più fitte sono queste linee che vengono disegnate. Da un punto di vista analitico viene misurata con la legge di Coulomb, cioè io genero un campo, a legge di Coulomb, se voglio sapere la forza, moltiplico E per la carica che ci mette, se sono la forza, lui è soggetta questa carica. Perché il concetto di campo è importante? Perché io, che ci sia una carica, ce ne siano due, ce ne siano tre, in quella zona di spazio dove vado a mettere una certa quantità di cariche elettriche, per il fatto che ci ho messo queste cariche elettriche che stanno lì, ferme, belli, inchiodate in tutto il rino, in quella zona si genera un campo di forze. E' del tutto analogo al campo di forze che meglio conosciamo. Qual è il campo di forze che meglio conosciamo, nel quale siamo inseriti dalla mattina alla sera? Il campo di forze gravitazionale. Cioè se si prende una cosa e si tocca da andare, perché ci è soggetto a una forza, perché noi viviamo in un campo di forza. La forza a cui è soggetto questo oggetto è la forza peso, che è data dalla famosa legge di Newton, che non è molto diversa da questa qua, e che cade perché questa qua, che è molto più piccola della massa enorme che è data dalla Terra, e che comporta, diciamo, proprio la trazione gravitazionale. E in lo stesso modo, quindi, quando io metto una distribuzione di cariche, ottengo un campo elettrico. Il campo elettrico è la condizione base per la quale se io vado a mettere una carica in un campo elettrico, questa carica è soggetta a una forza. Allora, attenzione, noi stiamo parlando di situazioni statiche, quindi ancora non stiamo parlando di correnti. Se io metto una carica, per quanto piccola, in un campo elettrico, quella carica è soggetta a una forza di tipo elettrico, quindi tende a muoversi, ma non si sta muovendo. E se si muove, entriamo in altre cose che diciamo adesso, però sappiamo che se ci metto una carica, quella carica è soggetta a una forza. e il potenziale vi dice quant'è proprio questa forza che viene esercitata su questa carica per unità di carica. Ora, a questo punto parliamo di cosa succede se invece questa carica si muove. qui ho fatto prima un esempio legato al campo gravitazionale per definire il concetto di potenziale. Allora, qual è l'aspetto? se all'interno di un campo di forze qualunque cosa ci metto, nel caso del campo gravitazionale una massa, nel caso del campo elettrico una carica, e questa cosa si muove, per il fatto stesso che questa cosa si muove, a questo punto viene compiuto un lavoro. cioè, il lavoro significa energia. D'accordo? qui è lo stesso discorso della centrale idroelettrica. No, la centrale idroelettrica produce energie. Perché produce energia? Produce energia perché c'è l'acqua con la sua massa, eccetera, che da una certa altezza cade. e questa caduta viene intercettata dalle palle delle centrali idroelettriche e viene trasformata in energia. Energia che ci troviamo a gratis, perché è l'energia che è prodotta dal campo di forze gravitazionali. Non è che dobbiamo spenderci qualcosa, ce la troviamo a gratis, perché ci troviamo in un campo gravitazionale, dove produrre e mantenere quella forza non ci costa niente. Bene? Quindi, il fatto stesso che un oggetto o una certa massa cada in un campo gravitazionale produce energia. E quindi, analoga a questa energia è quello che noi otteniamo, così quando metto una carica all'interno di un campo di forza, questo oggetta una forza. La forza è quella che otteniamo in seguito al fatto che io ti ho messo una carica in un campo di forza. E il campo di forza è per ogni unità di carica questa grandessa che noi diciamo che abbiamo detto questa forza in un'unità di carica si chiama campo. Quindi, se voglio descrivere quello che è potenzialmente in grado di produrre in termini di forze un campo elettrico, la grandezza è il campo elettrico, che è la forza in un'unità di carica. Così come quello che intendo produrre il campo gravitazionale, c'è anche un campo gravitazionale che è la forza per unità di massa che viene prodotta quando io metto un oggetto in un campo. Ora, analogamente, quindi, al concetto di campo è utile per quelle che sono... Ragazzi, se voi state perdendo in queste disquisizioni, voi me lo spiegate, cerchiamo poi di tornarci, però vorrei che i concetti piano piano ci arriviamo, perché poi alla fine, qui stiamo arrivando quasi al punto importante, quindi forza, campo. Forza dipende dalle due cariche, campo dipende dall'unità di carico. Ma ora passiamo all'energia, perché la carica si muove, quella massa si muove. Quindi, si muove energia. Così come mi interessa e è utile sapere forza per unità di carico, è utile sapere energia per unità di carica o energia per unità di massa. e... Aspettate un attimo. No, aspettate. Allora, mi soff... Allora, nel caso dell'energia, in considerazione di quello che c'è, se io vado a mettere quella unità di massa, così come vado a mettere quell'unità di carica e ho quella forza, quando vado a mettere la massa in un certo punto di un campo gravitazionale, nel momento in cui ce la metto, io ho un'energia che può essere prodotta se quella massa viene lasciata libera. Quindi è un concetto analogo a quello di campo, cioè io ho il campo e ho la forza che può essere generata nel caso di una carica. Nel caso dell'energia, io ho una situazione nello spazio dove c'è campo gravitazionale o campo elettrico, se vado a mettere un oggetto di massa M può essere prodotta una energia perché quell'oggetto di massa M può cadere. D'accordo? se metto in un campo di forza elettrico una carica Q quella carica Q si può muovere quindi può essere prodotta energia da un punto di vista elettrico perché se io la lascio libera quella carica se ne va a camminare e produce energia. Così come se in un campo gravitazionale ci metto la massa M e la massa M la lascio libera quella massa cade e produce energia. Ok? Questa energia che può essere compiuta da un corpo si chiama energia potenziale. Va bene? Così come quando io metto una carica elettrica in una zona dello spazio dove c'è un campo elettrico in quel punto c'è una energia elettrica potenziale. Ok? 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 Nel caso della questa energia questa nel caso del campo di energia ovviamente dipende dalla forza applicata e quindi dipende anche dalla massa e dallo spostamento che fa. Nel caso del campo gravitazionale possiamo definire il potenziale come la l'energia potenziale e la massa quindi diventa una specie di energia per unità di massa. Ok? Quindi il potenziale e l'energia prodotta. Se io prendo l'energia potenziale è quella prodotta. Se io divido l'energia potenziale per la massa ottengo il potenziale. Caso il campo elettrico è del tutto analogo perché anche nel caso del campo elettrico io posso se io lascio metto una carica all'interno di un campo elettrico io posso produrre se questa carica la lascio libera quella carica mi produce energia perché a un certo punto se ne va fino a che poi non si ferma perché si è allontanato quindi se scappa se viene lasciata libera quella carica produce energia elettrica quelle slide le avrete tutte quante sulla piatta tua ma serve a fissare le le sta bene nel caso del campo elettrico quindi noi introduciamo questa grandezza che è molto importante che si chiama potenziale elettrico e che è uguale proprio all'energia che quella carica elettrica produrrebbe se venisse lasciata libera diviso il valore della carica e che è proprio quella che noi chiamiamo la tensione elettrica quella che poi è equivalente che ci dice poi sostanzialmente che nota la tensione elettrica per avere una definizione per sapere quanto è l'energia che posso produrre mi basta moltiplicare la tensione che dipende dal campo che è una situazione diciamo potenziale per le cariche che io poi faccio muovere chiaro poi ci stanno ovviamente le unità di il volt che sarebbe energia un joule fratto il coulomb perché il joule è la grandezza e l'unità di misura dell'energia e il coulomb è l'unità di misura della carica qui vedete abbiamo le due diciamo il parallelo quindi abbiamo il campo gravitazionale la forza qui mg che è su due punti quindi qui è la forza legata alla carica q0 per e q0 per e e qui abbiamo il potenziale che è energia nel punto a diviso la massa meno energia nel punto b diviso la massa qui nel caso elettrico tensione o energia nel punto la tensione tra a e b è l'energia nel punto a diviso la carica meno l'energia nel punto q diviso la carica quindi il campo gravitazionale il campo gravitazionale ci metto è una massa si scappa massa cara e produce energie divido l'energia per la massa tengo il potenziale nel caso del campo elettrico tenga la forza in due punti se lascio la carica quello scappa produce energia quindi l'energia diviso la carica è la tensione in due slide siamo arrivati a definire la grandezza una delle grandezze che poi ci ritroveremo a usare quotidianamente che è la tensione elettrica che cosa è importante che voi capiate che la tensione è la la il prerequisito cioè quella cosa che ci dice potenzialmente quanta è l'energia che possiamo produrre da un punto di vista elettrico perché se io poi a quella tensione la moltiplico per la quantità di carica che io riesco a trasportare quindi questa c'è una villa in watt d'accordo significa che questa qui può far passare una energia di un joule se trasporta la carica di un coulomb ok è tutta la carica che può trasportare che poi trasporterà in un circuito chiaro? ci siamo? ok adesso uno di noi adesso esamineremo vabbè questo magari il condensatore lo vediamo dopo allora abbiamo detto che se c'è una distribuzione se ci sono due una distribuzione di diciamo di una differenza di cariche ad esempio in questo caso abbiamo qui una carica positiva e qui la carica negativa quindi fra questi due punti c'è una potenziale elettrica perché qui c'è una distribuzione di cariche positive e qui c'è una distribuzione di cariche negative fra questi due punti c'è un potenziale elettrico ora che cosa succede se io questi due punti li metto in contatto l'uno con l'altro con un mezzo conduttore le cariche cominceranno a passare da la parte negativa perché le cariche negative sono gli elettroni quindi dalla parte negativa alla parte positiva il flusso di cariche da l'uco a una corrente cioè abbiamo detto che se io ho qui un campo elettrico quindi c'è un potenziale elettrico se io metto diciamo in comunicazione quindi così che abbiamo visto quell'elemento metallico metto un qualche cosa che ha delle cariche elettri a disposizione queste cominciano a scorrere all'interno di questo conduttore ok normalmente abbiamo detto che l'atomo cioè il materiale elettrico quindi il materiale conduttore è composto di atomi con elettroni nelle orbite più esterne sono elettroni che tendono a potersi muovere più agevolmente quindi nella nostra non è che noi abbiamo adesso immaginare gli elettroni che stanno scappando da qua a qua no però dobbiamo immaginare che tendenzialmente tutte le componenti diciamo tutti gli elettroni delle ultime orbite che sono quelli meno legati alla struttura centrale dell'atomo tendono a muoversi sul conduttore la corrente quindi nasce una corrente il cui verso convenzionale però è contrario a quello degli elettroni gli elettroni vanno da una parte la corrente che va dal polo positivo al polo negativo noi intendiamo che vada verso opposto quindi in questo caso io dirò sempre che la corrente va di qua però devo sapere che in realtà il flusso elettronico dove non è che abbiamo il singolo elettrone ma abbiamo la globalità degli elettroni che scorre all'interno del conduttore va dal polo negativo al polo presidio ok ora la questa carica questa corrente che va a scosere all'interno del conduttore si chiama appunto corrente elettrica ed è definita come la quantità di carica che transita nel conduttore nell'unità di tempo quindi la corrente sarà uguale a delta q diviso delta t che cosa ci dice questo che quindi la corrente non è tanto legata alla quantità di carica che passa ma è legata alla velocità della carica cioè se ad esempio qui transita un coulomb questo può anche dare diciamo luogo a una corrente bassissima se la quantità di carica transita in un tempo molto lungo se viceversa questo dipende dal poi vedremo dipende dal potenziale quindi se la quantità di diciamo di energia potenziale è molto elevata appena io metto il conduttore elettrico da una parte all'altra questo subito tende a transitare queste cariche con la massima velocità ok questa velocità proprio è la cosiddetta corrente elettrica che è data dalla velocità degli elettroni che transitano quando io ho un campo di forze quindi immaginiamo quando ho questa pila è come se io avessi un campo di forze elettrico però non ne parlo in termini di campo di forze perché il campo di forze mi dà informazione solo sulla forza potenziale e non sulla capacità di far scorrere le cariche il campo di forze gravitazionali il campo di forza elettrico che abbiamo visto prima quando abbiamo visto il fatto della mazzetta è un campo di forze significativo perché riesce a muovere quella pallina ma se quel campo di forze si traduce da un punto di vista di corrente elettrica quel campo di forze non dà nessuna energia perché la quantità di cariche e l'unità di tempo che io riesco a far passare lì è praticamente nullo addirittura che lo si chiama campo elettrostatico proprio perché io lo misuro solo la sua capacità di esibire una forza e il fatto che ci sia una forza non implica una capacità di muovere le cariche perché beh perché io se voglio muovere le cariche quando passa dopo che ci sta quella prima sposta me poi dovrei mettercene delle altre quindi questi sistemi che sono i generatori che fanno esercitano una forza ma dopo che le cariche hanno cominciato a muoversi possono metterci le altre è chiaro non esercitano solo la forza hanno la capacità di rifornire le cariche man mano che queste scorrono all'interno del giro e più ne forniscono più questa capacità di energia elevata perciò poi vedete batterie e la macchina sono belle grosse passate che non basta che loro esercitano una differenza di potenziale di 12 volt quindi si metbrano tutto qua anche delle pile così piccole possono esercitare una differenza di potenziale di 12 volt però mentre quelle pile così piccole avranno poche cariche da mettere per farle continuare a correre all'interno del circuto la batteria ce ne ha tante proprio per le sue caratteristiche chimiche chiaro? lo vedete quindi voi dovete immaginare proprio questa è utile perché attacco e cominciano a scorrere gli elettroni nello scorrere gli elettroni questi producono diciamo un'energia che poi può essere utilizzata ad esempio anche per accendere una lampadina ora nella diciamo per misurare dare una misura alla corrente diciamo che quando io non vi faccio fare il break perché sono le 5 quindi magari sono le 10 minuti prima ok quando attraverso una sezione di questo conduttore transita la carica di un coulomb in un secondo significa che noi abbiamo la corrente di un amper hai sentito parlare questo c'è quindi un amper è esattamente una corrente che scopre in un conduttore in un secondo noi studieremo fondamentalmente due tipi di corrente la corrente continua e le corrente alternali attualmente quello che stiamo vedendo è la corrente continua perché è una corrente che viene generata partendo da una differenza di potenziale una tensione che è costante quindi se la tensione che è quella che fa l'energia nell'umità di tempo quindi quella capacità che ha il nostro generatore di far scorrere nella corrente è costante la corrente che si ottiene è anch'essa costante nelle applicazioni pratiche industriali però quello che poi vedremo interessa è anche la corrente alternata non è per l'amore di complicazioni ma perché poi vedremo che la corrente alternata è quella che più facilmente si riesce a generare la corrente continua è una corrente complicata da generare perché in realtà la corrente continua è frutto delle batterie costa la corrente continua costa generare la corrente alternata e porta una serie diciamo di inconvenienti operativi nell'area diciamo nel suo utilizzo per cui poi alla fine anche se sembra più complicato però si risulta essere molto più agevole avere a che fare con la corrente alternata che è quella che noi troviamo nelle pregne diciamo da un punto di vista industriale e che come vedremo ha le sue controindicazioni perché mentre la corrente continua diciamo è una corrente tutto sommato da un punto di vista di sicurezza innocua la corrente alternata no ok e quindi poi vedremo che bisogna starsi un poco attento quindi questo è un poco uno schema quindi la corrente questa qui adesso la corrente continua per essere ottenuta ha bisogno quello appunto di un generatore elettrico una pila cioè qualche cosa che è in grado di mantenere ai suoi capi una differenza di potenziale stante e di fornire tutte le cariche che servono per far farla scurrere il circuito nella pila queste cariche vengono accumulate per un processo chimico che permette di tenere queste cariche tutte accumulate all'interno della pila d'accordo per cui quando viene collegato poi sempre per processo chimico si riescono a mantenere e a generare tutte le cariche che servono per scurre all'interno del circuito e accendere la lampadina ok il generatore elettrico da un punto di vista diciamo concettuale si comporta un po' come questa cosa qua cioè si comporta come nel caso diciamo di questo serbatuio prende l'acqua da una parte la riporta dall'altra e la riporta sempre in maniera che questa acqua possa continuare a scorrere se io faccio in questa maniera quest'acqua qui scorre sempre diciamo la metafora dell'acqua è molto utile per comprendere dei fenomeni della corrente a corrente continua perché il concetto del potenziale è analogo a quello del potenziale pure idrico il concetto del flusso di elettroni è molto simile al flusso dell'acqua anche poi vedremo il concetto di resistenza il concetto diciamo di accumulo di capacità è tutto uguale quindi questo per immaginarvi nella vostra testa lo svolgimento di un processo elettrico il fatto di fare diciamo la metafora la semiglianza con l'acqua è utile perché vi fa vedere le cose in maniera che è vicina alla realtà e poi ripeto vi invito sempre nelle occasioni che avremo di studio di questa materia di cercare di immaginarvi quello che accade non vi accontentate dice vabbè funziona oppure di fare le cose automaticamente ma cercatevi sforzatevi di vederle fisicamente per quello che rappresenti in maniera che le cose così vi rimangono molto di più e ripeto la metafora del generatore dell'acqua è utile perché effettivamente riproduce in maniera abbastanza fedele quello che è il fenomeno della 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 e qui abbiamo ripeto un quadro un po' generale appunto dei vari generatori elettrici che possono essere chimici quindi la pila oppure meccanici la cosiddetta dinamo attenzione il c'è un altro punto la pila non è solamente voi non dovete vederla solo come un dispositivo di accumulo della corrente perché in realtà non è che la corrente non si accumula quello che si accumulano solo le cariche la pila è un dispositivo che accumula energia chiaro? cioè con la pila così come io con questa dinamo muovendo la dinamo con la mano io produco energia poi questa energia che io produco meccanicamente si trasforma in energia elettrica e quindi fa accendere la lampadina e quindi io converto l'energia meccanica in energia elettrica che accende la lampadina oppure che ovviamente per accendersi hanno bisogno di energia questa energia gliela sto producendo io meccanicamente se ci metto la pila quella lampadina si accende perché la pila che gli sta fornendo l'energia così come la batteria dell'auto quando accende diciamo ci permette di accendere la macchina perché fornisce l'energia per muovere il motorino di avviamento della macchina ed è molto importante ragionare in termini di energia chiaro perché la corrente di per sé non è un'energia invece la corrente unita alla tensione che l'ha generata nel circuito dove scorre allora ha un equivalente in termini di energia chiaro? è chiaro tutto? è chiaro e quindi qui cominciamo a parlare di energia nel senso che abbiamo visto che se io ho una differenza di potenziale di un volt allora posso produrre una corrente la corrente abbiamo detto si misura in ampere quindi se io moltiplico i volt per gli ampere ottengo quella che è cosiddetta chiamata potenza elettrica non è l'energia perché ricordiamoci che l'energia è data dai volt per la quantità di carica che io faccio circolare ma l'energia di per sé non mi dà una risposta sulla capacità di produrre energia corrente perché quell'energia può essere prodotta anche in un tempo infinito cioè se io produco un joule in un anno in realtà io ho bisogno di pochissima tensione pochissima corrente perché ci metto un anno per quella energia se viceversa quell'energia di un joule voglio produrla in un secondo allora ottengo una potenza molto più significativa che di un watt quella che io percepisco quando si accendono le luci quando c'è il calore accendo la stufa eccetera è la potenza perché io percepisco quello che viene prodotto quando io sento un'apparecchiatura che scalda io sento la potenza di quell'apparecchiatura perché l'energia legata a quell'apparecchiatura è la potenza ma nel tempo quindi per misurare l'energia non basta che vedo se è caldo devo capire poi questo caldo per quanto tempo viene generato chiaro io vi dico anche queste cose per farvi dare percezione del significato fisico di queste grandezze così come la quantità di carica non mi dice niente perché io posso far trascorrere quella quantità di carica in un tempo infinito invece mi dice molto la quantità di carica che transita e la nuova di tempo perché quella mi dà la cotrente e mi dà una misura di quello che può essere ottenuto può essere erogato con quella corrente chiaro e qui l'ultima cosa che vediamo oggi è quello che poi è di base il rapporto tra la tensione e la corrente cioè quella tensione che è quella che io ottengo con la cosiddetta diciamo energia potenziale quella tensione che mi dice la capacità di far scorrere la corrente come faccio a sapere quant'è la corrente che ottengo in base al circuito allora io quando chiudo quel circuito quel circuito ha una sua caratteristica che lo definisce che lo descrive che è la resistenza cioè quando faccio questo circuito qua vedete devo sapere questo circuito che resistenza ha perché in base al valore della resistenza che è il circuito che io vado a collegare in base al valore della tensione ottengo il valore della corrente e quindi è uguale a tensione diviso la resistenza oppure chiudo il circuito non so quanto vale la resistenza applico la tensione misuro la corrente e ottengo che la resistenza è uguale alla tensione diviso la corrente questa è la cosa più pratica che userete 8 miliardi di volte voi avete una tensione che adesso sapete che è legata al potenziale elettrico legata al fatto del campo quindi abbiamo un campo elettrico abbiamo l'energia che può essere prodotta da quel campo elettrico l'energia per unità di carica è il potenziale elettrico quindi la capacità di far scorrere energia in quel campo elettrico quando io metto la carica e questa energia scorre quando chiudo do la possibilità a quel campo elettrico di far scorrere le correnti io ottengo una corrente quindi ho messo quel campo elettrico dove c'è una possibilità di far scorrere le correnti e c'è quindi un generatore chiudo il circuito quelle correnti corrono nel circuito e quindi ottengo che la corrente che si ottiene è data dalla tensione diviso la resistenza oppure metto il circuito metto la tensione misuro la corrente e ottengo la resistenza la resistenza può avere un suo simbolo elettrico che adesso vedremo quando già dalla prossima volta forse cominceremo a vedere già uno schema semplice del quale ci sarà solo l'alimentatore la PIL il circuito la resistenza e misureremo la corrente chiaro? allora queste poche cose guardatevele studiatemi scusate questa cosa del condensatore la vogliamo una prossima volta perché tanto questa slide qua era diciamo era inopportuna perché c'era solo confusione faremo insieme il condensatore e l'induttore quando andremo ad esaminare i circuiti a corrente alternata ok? andiamo un po' copriati e sarebbe utile perché almeno non ha narrato niente quindi gli adress come fatele nella prossima la registrazione la metterò in piattaforma di appena mandate le cose nell'in necco come fatele come fatele Grazie.